Siamo con il dottor Paolo Narcisi del progetto Torino Street Care. Dottor Narcisi ci racconti di che cosa si tratta? Il progetto Street Care è un incredibile progetto di rete fatto dall'organizzazione di volontariato sanitario della città di Torino che Rainbow coordina ma che è nato grazie all'appoggio e all'interessamento dell'ordine dei medici con il sostegno dell'ordine degli infermieri e una risposta positiva data dalla regione Piemonte che ci ha permesso di utilizzare i test rapidi della protezione civile e i dpi della protezione civile. In questo modo noi cerchiamo di mettere in sicurezza la popolazione più fragile di Torino che è fatta da homeless, migranti, disoccupati, anziani che hanno perso i riferimenti familiari per accedere al servizio sanitario nazionale ma che in qualche modo vanno tutelati e serve questo tipo di iniziativa a mettere in sicurezza questa popolazione che normalmente non avrebbe accesso a questo tipo di esame. Il percorso è stato concordato col DIRMEI, con la regione e con l'ASL Città di Torino che ci permette quindi di fare seguire al tampone antigenico eventualmente positivo immediatamente un tampone molecolare e in caso di confermata positività l'isolamento fiduciario presso un Covid hotel. Ecco, è stato detto dal Consiglio Superiore di Sanità che tutte le persone presenti sul territorio italiano quindi anche i cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano avranno diritto a essere vaccinati. Prevede uno sviluppo anche per quanto riguarda il vaccino delle persone in strada? Beh, l'organizzazione che abbiamo messo in piedi tra tutte le associazioni coinvolte prevede innanzitutto la possibilità di agire anche in emergenza per esempio di correre al confine francese per poter tamponare le persone respinte sul confine e mettere in sicurezza anche loro e quindi è così articolato che noi ci siamo messi a disposizione anche eventualmente per fare le vaccinazioni. Le vaccinazioni su tutte le persone presenti sul territorio nazionale non sono soltanto un motivo di orgoglio per le organizzazioni di volontariato come le nostre ma anche un motivo sanitario molto importante il fatto di poter vaccinare tutti quanti mette in sicurezza tutta la popolazione pensare che ci siano persone di serie A o serie B oltre che stupido, cattivo e non etico sarebbe anche molto stupido dal punto di vista sanitario. Grazie mille dottor Narcisi.